Buckingham Palace ha annunciato che il 6 maggio il principe Ferri parteciperà all'incoronazione di re Carlo. Il principe Ferri perderà il quarto compleanno di suo figlio per partecipare all'incoronazione di re Carlo. Ferri sarà lì per vedere Carlo e la matrigna. Camilla, la regina consorte, incoronati nell'abbazia di Westminster il 6 maggio, che è la stessa data del compleanno del principe Archie Harrison, Meghan non si recherà nel Regno Unito e resterà negli Stati Uniti con Archie e la principessa Lilibet Diana. Il palazzo ha dichiarato mercoledì in una breve dichiarazione. Buckingham Palace è lieto di confermare che il duca di Sussex parteciperà al servizio di incoronazione presso l'abbazia di Westminster il 6 maggio. La duchessa del Sussex rimarrà in California con il principe Archie e la principessa Lilibet. La notizia pone fine a mesi di speculazioni sul fatto che la coppia si sarebbe presentata al grande giorno del re, ma senza dubbio vedrà Meghan accusata di snobbare il monarca e la famiglia reale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. rollate. Grazie a tutti. Rim Celliesi e Tieton 3